Nella gara, valevole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di futsal, la Sandra Bate impatta in casa del Meta Catania. All'appuntamento, all'ombra dell'Etna, gli Irpini ci arrivano orfani di Fantesele e Jonas. Un match combattuto e viso aperto da entrambe le formazioni che si è concluso con il risultato di 1 a 1. Bravi i ragazzi di Batista che innalzano un muro difensivo davanti ad un favoloso Tiago Perez, disputando una partita quasi perfetta dal punto di vista difensivo. Meno incisiva la compagina Irpina sottoporta che spiega diverse buone occasioni. Il quarto posto ora è in bilico per Abadi e compagni che salgono a quota 37 punti in classifica. Per il tecnico Batista l'unica marcatura della giornata porta il nome di Antonio Bagatini. Catania che intravede, spiragli di sole dopo quattro sconfitte consecutive in campionato, l'ultimo in ordine di tempo contro il Real San Giuseppe. Nel prossimo turno sarà caccia riscatto contro il CMD signor Presto Matera in trasferta. Chierpini dovranno guadagnare una vittoria che manca ormai da qualche settimana.